Già a Vicenza iniziava a arrivare Napoleone con tutta la sua armata e di lì a poco sarebbe arrivato anche a Belluno. La più datata risale al 1481, l'arco temporale rappresentato arriva fino al 1796. Sono oltre una quarantina le lettere antiche e originali spedite dal bellunese Feltrino e Cadorino in esposizione al Palazzo delle Poste Centrali di Piazza Castello a Belluno nell'ambito della mostra temporanea promossa dal circolo filatelico, collezionismo, filatelia, numismatica, Belluno. Delle vere e proprie chicche capaci di far fare al visitatore un tuffo indietro nel tempo. Ci sono delle lettere che sono state scritte quando Cristoforo Colombo ancora doveva partire per il suo viaggio e Leonardo da Vinci era ancora vivo. Provenienti da collezione privata, le lettere principalmente di carattere commerciale, amministrativo o afferenti al clero, testimoniano non solo l'istituzione del servizio postale pubblico ma restituiscono uno spaccato di vita vissuta. Testimoniano le attività che si svolgevano, ci sono testi che panno delle mucche che partoriscono, l'azienda, gli zappatori, i lavori nei campi e tutto quello che era connesso all'attività agricola. Un'iniziativa messa a punto nell'anno in cui il circolo filatelico celebra i suoi primi 60 anni di attività. Appassionati di filatelia, di numismatica, di raccolta di buste che come vedete fanno parte anche della storia italiana per cui non è soltanto il francobollo di per sé ma è anche proprio tutta la storia da quando hanno iniziato a portare le varie buste di casa in casa. Molti gli appassionati che non hanno perso l'occasione dell'inaugurazione della mostra per ottenere l'annullo speciale dedicato messo a disposizione da poste italiane. Esiste il mondo del collezionismo che fa raccolta dei bolli speciali e di conseguenza questo momento celebrativo richiesto dal circolo filatelico locale per celebrare appunto la mostra dedicata. L'esposizione sarà fruibile fino al 4 maggio.